buongiorno sono marta scanu sono un'artista delle arti visive lavoro principalmente con la scultura e con con la pittura e sono cresciuta se si può si può dire all'interno delle accademie italiane delle accademie di belle arti italiane quindi in realtà sempre istituzionali sia a sassari nel primo periodo che a brera nell'ultimo la mia formazione sassarese mi ha aiutato a come dire a lavorare meglio con la pittura a lavorare soprattutto in ambito laboratoriale dato che il fatto che fossimo così pochi gli iscritti che l'accademia fosse così piccola permesso di essere seguiti maggiormente anche da questo punto di vista mentre il mio percorso a brera è molto più recente mi ha permesso di ampliare l'aspetto soprattutto intellettuale legato alla riflessione sull'opera sono molto grata alla professoressa galli che mi ha permesso di di ricevere questa commissione da parte della fondazione che è grande la professoressa si occupa di anatomia di pittura all'interno dell'accademia di belle arti di di brera a milano e ha fatto una selezione degli studenti soprattutto in base alla sia la loro personalità la loro capacità di di interpretare la figura sia dal punto di vista puramente tecnico la loro capacità quindi e la nostra capacità di poter utilizzare e sapere utilizzare la figura all'interno dello spazio e rappresentare perché nella commissione della fondazione era fondamentale rispettare alcune alcune misure la fondazione infatti commissiona agli artisti soprattutto nell'ambito milanese da secoli dei mezzo busti o dei ritratti a figura intera in base a quanto i suoi benefattori abbiano versato tra virgolette al alla causa insomma la alla beneficenza di cui la fondazione spesso si occupa sin dal dagli albori insomma e in questo caso ci ha chiesto appunto se fossimo all'altezza del della richiesta ovvero della rappresentazione a mezzo busta figura intera di uno dei benefattori eh che poi siamo andati a ad incontrare più avanti durante alcuni incontri all'interno della fondazione personalmente mh la possibilità ovviamente di far di far parte di una quadreria così ehm così straordinaria come quella della fondazione è anche secondo me è piuttosto sconosciuta dato che io per prima ho conosciuto la fondazione eh soprattutto per quanto riguarda ehm la sua attività in ambito medico che è l'attività principale della della fondazione quando mi sono trovata davanti alla quadreria devo dire che eh è stato molto molto emozionante i quadri all'interno sono preziosi eh sono ehm come si può dire sono notevoli perché eh sono sono dei ritratti quindi sono dei quadri su commissione ogni artista ha in qualche maniera ehm applicato la propria visione del del mondo a un soggetto che aveva eh delle ehm anche dei limiti soggetto in vita o non in vita eh quasi sempre in vita nel caso dei dei ritratti più antichi dato che venivano fatti appunto dal vero e eh e quindi è possibile ehm osservare l'occhio di ogni artista e la maniera in cui ciascuno ha osservato il proprio benefattore il fatto di eh trovarsi ad osservare qualcuno eh che deve riflettere deve fare delle scelte perché la scelta non è mai soltanto del pittore la scelta è sempre un incontro e anche in questo caso lo è stato quindi qualcuno che deve scegliere che cosa va ehm rappresentato all'interno di un di un'opera che potrebbe durare per secoli quindi che potrebbe eh rappresentarlo per il futuro avvenire è sempre molto interessante nel mio caso ho avuto la fortuna di rapportarmi è una donna per me straordinaria che Anna Teresa Moiolo una un medico che è stato primario tra l'altro anche del policlinico eh per molti moltissimi anni ehm che si è occupato di ematologia e che ehm ha dato un grandissimo contributo per quanto riguarda eh la scienza, le sue pubblicazioni e ehm aggiungerei ehm anche eh la presenza eh femminile all'interno eh di alcune realtà che erano prettamente maschili nel senso che ehm la dottoressa si è trovata a ehm ad avere questa grande passione del per per la medicina nata all'interno della famiglia in tempi in cui gli iscritti all'università soprattutto le iscritte all'università erano veramente poche. Quando eh c'è stata data la possibilità di conoscere i tre benefattori che avremmo ritratto io eh devo essere sincera sono stata immediatamente colpita da questa donna mh che mostrava di avere una grande forza ma eh allo stesso tempo una grande schiettezza è una grande ehm semplicità ma semplicità ehm data da nei modi eh non c'è affettazione nei suoi modi c'è moltissima ehm spontaneità e moltissimo amore molta anche concretezza moltissimo amore per per ciò che che ha fatto e ciò che continua a fare perché è una donna che non smette mai di studiare ho scoperto e ehm la sua ehm la sua ehm la sua ehm la sua concretezza nei modi eh e il suo essere così diretta mi ha sinceramente conquistato subito e eh fatto scegliere immediatamente di dipingere questa donna di cui volevo conoscere eh con più profondità ehm sia ciò che sia il pensiero che ciò che che ciò che poi in realtà ha fatto nella maniera nella maniera in cui ha vissuto. Per fortuna ci siamo incontrate è stato molto reciproco ehm ho avuto modo oltre al primo eh incontro di incontrarla anche a casa sua e eh ci siamo trovate davanti all'interrogativo del cosa inserire all'interno dell'opera. Ripeto fare un'opera eh fare un'opera ed essere ritratte all'interno di un'opera eh che rimarrà non è una scelta semplice. Eh abbiamo visto insieme eh lei lo sapeva già io ho scoperto poi che c'era già un suo ritratto soprattutto mh è visibile anche su internet in cui lei viene eh un ritratto fotografico in cui lei viene eh fotografata con gli strumenti di lavoro e il suo camice bianco quindi possiamo dirlo un un ritratto particolarmente ehm impostato un ritratto eh che la ritraeva già eh con con i simboli di ciò che eh rappresentava ehm il proprio lavoro. E quindi riflettendo sull'opera ci siamo dette che ehm non volevamo inserire nulla di così simbolico né strumenti da lavoro eh nel microscopio nel camice ma ehm un ritratto eh all'interno del del suo salotto o con alcuni elementi del suo salotto molto molto belli come la sedia eh cioè la poltrona eh fiorita sulla quale lo ritratta le piante all'interno del del salotto e l'unico elemento che rimanda alla sua carriera ehm è una pubblicazione della fatta per la fondazione eh che lei tiene in mano. La scelta eh è stata la scelta invece pittorica e tecnica mh è stata orientata per me soprattutto mh su una pennellata che fosse fresca. Già abbiamo scelto comunque eh di non utilizzare simbologie particolari però di fare un ritratto in cui lei fosse all'interno del suo salotto quindi un ritratto che eh che rientrasse in qualche maniera in un ehm in un'impostazione tradizionale. non ho voluto discostarmi tantissimo dai dai ritratti che ho visto all'interno della fondazione ehm perché amo comunque la tradizione e ho deciso invece di usare una pennellata che fosse più attuale e dei colori anche più attuali. Il fondo infatti è molto molto ehm tormentato tra virgolette nel senso che è un fondo ehm in cui la pennellata è data in maniera molto molto libera. Un rosa un rosa pallido che riprende eh il rosa pallido dell'incarnato. Anche questo fatto fatto a macchie reso con con delle macchie di colore. Mentre l'abito è quasi completamente eh di un verde piatto. Quindi un'alternanza di eh movimento ehm e stasi se possiamo dire così. E lo stesso vale per per la poltrona che è stata realizzata quasi con delle stessure piatte. Ehm sono soddisfatta del risultato ottenuto. Eh ovviamente la vivacità del dello sguardo della della dottoressa è molto complessa da da rendere. anche eh una certa eh dolcezza eh forse un po' nascosta ma sicuramente visibile. Ehm ed è forse l'aspetto che ho in qualche maniera cercato di di evidenziare evidenziare maggiormente. Sono ovviamente felicissima di far parte di questa di questa quadreria. Mh volevo spendere due parole mh sul dottor Galimberti e su Valentina eh regonese che ci sono stati veramente da guida. Hanno fatto da guida. Hanno fatto da guida sia all'interno della fondazione facendoci scoprire la la biblioteca e l'archivio. Eh credo che sia la parte della fondazione che più mi ha ehm mi ha stupita. È certamente un uno spazio architettonico sul quale si potrebbero fare tantissimi lavori in futuro ehm da dedicare a quello spazio straordinario veramente. Al di là della quadreria che eh non ha uno spazio eh abbastanza eh antico giustamente una quadreria deve mantenere la temperatura delle delle opere mantenere eh la salute tra virgolette delle opere. Ma devo dire che la biblioteca eh architettonicamente mi ha veramente impressionata. Quindi grazie a loro eh grazie alla professoressa Galli che ci ha guidati comunque non ci ha sicuramente lasciati lasciati andare ma ha seguito gli sviluppi del del lavoro. Eh sono molto felice di aver conosciuto questa realtà e mi auguro che col termine di questa di questo duro periodo che stiamo affrontando un po' tutti io riesca ad andare a rivedere la quadreria cosa che mi mi sono ripromessa più volte di fare ma che purtroppo questo questa pandemia mi ha impedito di di fare concretamente.